e bella lì ragazzi ben ritrovati andiamo oggi a vedere un pochino più del dettaglio come funziona star atlas farò un pochino una carrellata delle domande più frequenti che ho incontrato in questi giorni sia nei commenti che anche sul telegram ufficiale di star atlas italia quindi vedremo un pochino soprattutto come fare a vendere una nave già acquistata ed eventualmente anche come si fa ad acquistare i token atlas e polis senza eventualmente partecipare al gioco per covisto che molti lo stanno chiedendo benissimo ragazzi allora iniziamo benissimo ragazzi prima di partire permettetemi una piccola pubblicità se vi piacciono questi contenuti video vi chiedo di iscrivervi al canale vi ringrazio perché abbiamo superato i 3000 iscritti il canale ha ripartito quasi per scherzo stiamo andando dalla grande quindi si continua iscrivetevi in modo tale che vi state aggiornati su tutti eventualmente gli aggiornamenti che porto scusate il gioco di parole e vi suggerisco di guardare anche la playlist perché cerco di mantenere sempre contenuti molto organizzati quindi adesso sto facendo una playlist su star atlas e in parallelo continuo con la di gate io per i novizi vi suggerisco le pillole di cripto dove ci sono dei video su proprio su come funziona la block channel e le cripto valute diciamo che questa playlist era partita un po per spiegare a parenti amici il nostro mondo altra piccola pubblicità velocissima agli amici di star atlas italia ovvero la gilda che ormai è nata perché il round per i fondatori si è appena concluso tra poco aprirà quello per iscriversi anche come eventualmente a ruolamento non da fondatori la cosa interessante che a parte il sito web è fantastico ragazzi complimenti perché fatto veramente bene potete trovare moltissime guide in italiano quindi qua come potete vedere ci sono sia guide documentali che anche qualche video qua sotto quindi ve lo consiglio ragazzi è un ottimo un ottimo supporto da cui partire tanto quanto anche il canale telegram di star atlas italia ci sono dentro anch'io ragazzi ci sono veramente ragazzi molto disponibili a dare sempre spiegazioni supporto benissimo ma partiamo adesso ragazzi con le domande frequenti una cosa ragazzi mi raccomando ci sono stati casi di scam state sempre molto attenti non date mai la vostra seed phrase su nessun sito chi ve la chiede è scam per chi non sapesse cosa intendo per seed phrase è quella che facevo vedere anche nel mio video tutorial in questo pezzo sono le parole per recuperare il proprio wallet queste parole sono vostre soltanto vostre chiunque ve le chieda in pratica accede al vostro wallet può ricrearsi sul proprio pc il vostro identico wallet e da lì chiaramente trasferire i fondi che eventualmente avete e anche ancora peggio eventualmente gli asset ovvero le navi quindi state sempre molto attenti controllate l'url perché ci sono stati casi tipo star itas invece che star atlas che era scam eventualmente salvatevelo nei preferiti così non potete sbagliare l'importante è che non inserite mai la vostra seed phrase da nessuna parte né su star atlas né da altre parti purtroppo sono i criminali moderni che vi scammano e vi rubano tutto detto ciò se non fate errori di questo tipo state tranquilli che tranquilli al cento per cento il mondo cripto è veramente difficile però se non fate cose di questo tipo tipo inserire la seed phrase potete stare molto tranquilli per chi vorreste un ulteriore livello di sicurezza vi rimando al video in cui spiegavo come funzionano i wallet anche in questo caso potete utilizzare un wallet hardware da agganciare utilizzare ad esempio un ledger su star atlas ho fatto anche un video molto descrittivo step by step di come utilizzare il ledger partiamo ragazzi allora innanzitutto in molti chiedevano come fare ad acquistare i token atlas e polis io vi suggerisco di farlo su get.io come potete vedere se c'è sia atlas tanto quanto polis sono listati ormai da un po' e get.io per chi non lo conoscesse è comunque un exchange assolutamente affidabile qua vedete la classifica di coin market cap per volumi e al settimo posto quindi assolutamente ormai è un main exchange lasciatemi dire e la cosa interessante che ci sono veramente spesso molti progetti piccoli che non sono ancora listati su altri exchange più grossi quindi spesso anche lì potrebbero esserci delle gemme interessanti quindi nel caso che non siete iscritti vi suggerisco utilizzare un referral usate chiunque perché mi porta ad avere sconti eventualmente vi lascio il mio in descrizione perché avete degli sconti sulle fiche pagate nelle transazioni se siete iscritti tramite il referral detto ciò questa è la prima cosa che volevo chiarire la seconda cosa che ho notato che molti chiedono come fare a togliere una nave dallo staking ed eventualmente venderla effettivamente l'unica cosa che è stata un po' problematica che non tutti sanno che deve essere riparata la nave cioè quindi la parte di salute di fleet health deve essere al 100% viceversa non la potete diciamo togliere dallo staking e anche eventualmente venderla per venderla come fare allora una volta che siete entrati su manage fleet andate su manage ship attenzione vi segnalo due cose quando la togliete dallo staking se siete in questo momento se è fatta da un gruppo di più navi come ad esempio cioè io sulla non la opal jet jet ma la opal jet che ne ho due se io facessi la staking non mi permette di toglierne soltanto una me le toglierebbe direttamente entrambe altra cosa che vi segnalo il badge in molti si sono chiesti cos'è questo badge che è comparso sono dei badge che dopo un tot di giorni di missione vi fanno comparire questo badge che ad oggi non porta nulla ma sicuramente un domani ci saranno dei vantaggi ad esempio una percentuale di bonus potrebbero essere per le navi che hanno sono state ruolate da più tempo anzi datemi un secondo che vi recupero esattamente lo schema dei badge ed eccola qua ho recuperato questi qui sono i badge e come potete vedere dopo sette giorni vi viene dato primo livello dopo 28 il secondo e via dicendo ripeto al momento non si sa che i vantaggi porteranno forse nulla secondo me probabilmente sarà una percentuale di bonus per le navi che sono con questi badge quindi è importante ricordarsi che nel momento in cui la vendete perdete il badge state sempre molto attenti a questa cosa perché molti si chiedono come come fare a recuperarlo se la vendete o se la togliete dallo staking lo perdete detto ciò procediamo allora vogliamo vendere la opal x4 che come potete vedere come potete vedere l'ho inserita oggi apposta per fare il video di esempio vado in manage ships e decido di fare withdraw entire fleet come vi dicevo se ne avessi più di una non posso selezionarne di fare di meno ora dovrebbe andarmi in errore perché non è completamente riparata vediamo eccoci qua come vedete non me l'ha fatta ritirare benissimo proviamo allora quindi prima a ripararla resources mi faccio resupply all così in questo caso rimette anche il resto delle risorse oltre che ripararla appunto me taglio e accorcio un attimino il video sennò diventa anche lunghissimo perfetto adesso che ho ricaricato tutte le risorse proviamo a venderla ma nel ship vedrò parlo su da ritirarla prima per poi venderla rimetto in pausa modo da non fare video lunghissimo per la conferma del wallet benissimo non mi è venuto fuori l'avviso di errore dopo che autorizzato sul wallet quindi me l'ha venduta e ricordatevi quindi sempre effettivamente vediamo eccola qua nell'inventario quindi ricordatevi sempre ragazzi che se volete toglierla dalla faction fleet e vi va in errore probabilmente perché dovete prima ripararla ora io ce l'ho in inventario se volessi venderla vado molto semplicemente in marketplace la seleziono forse anche direttamente selezionandola dall'inventario mi dovrebbe andare in marketplace eccola qua vedete mi ha aperto la pagina dei marketplace da qui posso andare in buy and sell viceversa se volete passare al marketplace ma il processo esattamente lo stesso selezionate xp-6x4 invece che andare su buy andate su sell potete vedere qua anche questa parte qualcuno mi ha chiesto questo altro non è che un order book quindi vi vedete la domanda e l'offerta mettiamo in usdc io lo consiglio per l'acquisto dei navi ma a voi la scelta chiaramente potete vedere in pratica se io adesso inserissi il prezzo direttamente a 18 17 la venderei direttamente perché questa è l'attuale domanda facciamo una prova se la metto per esempio a 18 55 chiaramente ne voglio vendere una mi dovrebbe inserire semplicemente l'ordine nel order book come ask ovvero quindi disponibile alla vendita e non si incrocia domanda offerta quando qualcuno arriva che decide di comprarmela allora parte l'ordine devo un attimino togliere me stesso perché sono rimasto incastrato sotto allora ok scusatemi se now sempre autorizzo la transazione un'altra grazie vita la vedo qua all'interno del loro quasi sicuramente la mia vediamo ok è andata correttamente allora adesso in pratica quando verrà che la vuol comprare a quel prezzo verrà venduta viceversa se io la volessi vendere immediatamente bastava che inserivo il prezzo di 18 e 17 che quello l'attuale domanda nell'order book e la transazione sarebbe andata oltre che essere inserita nell'order book sarebbe stata eseguita istantaneamente quindi diciamo se volete venderla rischiando anche di prenderci qualcosa ma volete venderla subito inserite il prezzo nell'order book più alto viceversa decidete voi quale prezzo metterla sul mercato ed esattamente la stessa logica delle cripto classiche se andate a inserire un prezzo equivalente all'attuale disponibilità si conclude subito perché si incrocia domanda offerta bellissimo ragazzi direi che per oggi è tutto credo di aver un pochino coperto le principali domande che ho visto può essere presenti qualsiasi cosa vi ricordo sempre di scriverlo nei commenti venite sul canale telegram perché siamo molto attivi i ragazzi della gilda sono super bravi e super attivi da parte mia un suggerimento come sempre iscrivervi al canale con clip sulla campanellina se volete restare aggiornati e come sempre ciao belli e buon weekend and you 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 you